A me stasera un bel libro, con la personazione, mi ha seguito ancora avanti, solo un po' il pensiero, a me non voglio dire, ma voglio dire, ma voglio dire, ma voglio dire, ma voglio dire, e la mia proibita passione, e ogni volta che ci penso, arrivo a cammino, e non ti posso comprare, e rischio di impazzire, bevo ancora qualcosa, e poi mi metto a pensare, e a me vicino voglio respirare il tuo odore, sentire le parole di questa notte come un film, voglio vederti arrivare con l'immaginazione, con l'immaginazione, abbracciare l'aria di questa notte tranquilla che, che mi abbraccia di stelle gialle, e una di quelle, e una di quelle, signore. Io non posso sapere, qualcosa è proprio mio cuore, se io mi metto a pensarti poi, anche sto a respirare, che sembra che sei, a pensarti non ce l'entare, a guardarti uno secondo poi, d'illuminarmi in te, l'unica cosa che posso fare, scrivermi in te, l'unica cosa, e poi mi metto a pensare, e a me vicino voglio respirare il tuo odore, sentire il calore anche stanotte come un film, voglio vederti arrivare con l'immaginazione, con l'immaginazione, abbracciare l'aria di questa notte tranquilla che, che mi abbraccia di stelle gialle, e una di quelle, 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 e una di quelle. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!